eccomi qua così a sorpresa mi inizia il video in diretta e buonasera ciao a tutti la mia amica mi ha appena comunicato che ha visto lo spettacolo dell'eclissi di luna qui purtroppo è nuvolo e non c'è niente da fare ciao aurora tu puntuale io un po' meno allora siamo in piena in piena luna piena siamo in una piena in acquario da neanche un'oretta verso le 20 e 12 qualcosa del genere qui in italia e questo è un un periodo di una forza proverbiale veramente pazzesco e perché ho voluto fare questa diretta una sorta di costola di figlio di on air che in qualche modo il cui fantasma il simulacro continua ad aggirarsi ciao miriam ciao milena ad aggirarsi per il web chissà che non torni sotto un'altra forma allora perché ho voluto fare questa diretta perché questi sono giorni fortissimi al nord un po' di perturbazione hanno rotto come dire il fronte di lucifero e tenete a mente anche questa faccenda del nome di questo anticiclone terrificante che ha portato un grandissimo disagio non casuale allora vi dicevo oh maria libera ciao franci ciao francesca e perché ho voluto farlo perché facciamo un po' il punto della situazione visto che siamo grosso modo a metà di un mese che tradizionalmente durante l'anno nevralgico e poi vi spiegherò perché ma in particolare in questo momento lo è tanto 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 se avete la pazienza di seguirmi poi mi sono ho creato ciao silvia delle chiavi diciamo così di lettura dei consigli dei supporti dei degli input per ogni segno zodiacale tenete presente che io non sono un astrologo tradizionalista anche se amo moltissimo l'astrologia e ho una grandissima ammirazione per per gli astrologi quelli veri quelli seri un mese schifoso miriam ci sta ci sta per tanti motivi e poi ne parliamo e vi dicevo che è evidente che dire che una persona è di un segno zodiacale ha la stessa lo stesso valore che può avere il dire che una persona è di milano o di roma o di shanghai o o di nuova deliche sicuramente dice molto ma non dice abbastanza o daniela ciao benvenuta allora partiamo dal 23 luglio adesso capirete perché oggi siamo proprio in mezzo quei 28 giorni di fuoco che tradizionalmente durante l'anno sono dei giorni che vanno che attraversano che nel quale la luna attraversa diciamo così il il terreno il territorio del leone sono i giorni della canicola che c'è un senso la parola canicola pochi lo sanno ma viene da dal cane minore il cane minore è la costellazione a quale appartiene sirio e sirio è per i popoli antichi era sodato che fosse così veniva chiamato il sole dietro il sole no è il nostro sole spirituale è una stella tra l'altro particolarissima stella è stata identificata anche con tutte le grandi idee madonna compresa iside eccetera eccetera e questo periodo è un periodo che tradizionalmente ci mette a dura prova e vedete ma come le vacanze le ferie ma sappiate che la parola feria e la parola fiera fiera nel senso di bestia feroce e la parola ferro sono imparentate non è un caso milena mi dicono tutti che è bellissima ciao praga praga angela purtroppo io qua non riesco a vederla e faccio questa cosa posterete sicuramente in quantità industriale stavo dicendo che le ferie rappresentano quella parte che noi chiamiamo la vacanze o la vuoto ma perché vuoto che cosa fa questo periodo questo periodo che il periodo poi del leone grosso modo tratto quest'anno abbastanza a caso anche se sappiamo che il caso non esiste il caso fa bene le cose e queste porte diciamo così questi portali che noi stiamo vivendo che sono la luna nuova di luglio e luna di agosto sono molto vicini anche all'ingresso dei segni di segni zodiacali quindi che non è così scontato perché la luna si porta via 28 giorni calendario lunare e quello solare non coincidono ma quest'anno sì allora il 23 luglio luna nuova e passaggio il leone e il periodo del leone è un periodo incredibile dove il caldo e il fuoco del leone che è il segno che rappresenta la regalità che rappresenta la solarità che rappresenta la luce che rappresenta però anche il calore mette a dura prova il nostro fisico e ciao anna ciao kate un bacione perché lo mette a dura prova fa un po' con il nostro corpo visto che il nostro corpo è come in basso così in alto e viceversa visto che il nostro corpo il microcosmo rappresenta il macrocosmo fa un po' quello che farebbe un alchimista brucia cuoce mette a durissima prova tutte le scorie che noi abbiamo le scorie che abbiamo accumulato anche tutto tutto l'anno ciao dolores ciao antonella scorie che abbiamo accumulato durante tutto l'anno nel quale abbiamo ci siamo intossicati in teoria poi grazie a dio c'è chi riesce a non farlo o farlo poco con il lavoro con lo stress con il disagio dell'affrontare il freddo eccetera sappiate che le due cose cioè quello che è fisico e anche metafisico quindi io quando parlerò per metafore non parlo per metafore intesa come qualcosa che non è di qualcosa che non esiste ma di qualcosa che in realtà ha una sua consistenza nel mondo reale e come allora dicevo il periodo del leone tradizionalmente è un periodo che fa un po' quello che faceva l'alchimista nell'atanorra no? cioè per chi ha un po' di dimestichezza con l'alchimia cioè cuoce tutte le nostre scorie tutte le nostre tossine e le fa diventare oro e quello che sta facendo quest'anno particolarmente questa questa congiuntura questo mese è quello di bruciare le scorie e le scorie di quest'anno ci sta dando dentro il nostro amico leone ci sta dando dentro sirio ci sta dando dentro tutta l'energia vibrazionale che permea questo luogo e non solo questo luogo ah sì è vero tu sei del leone Dolores poi ne parliamo oggi una mia amica che stimo molto che si chiama Paola Ferraro ha pubblicato tra le varie cose interessanti che le pubblica una cosa un'intuizione ha scritto io poi l'ho postato ha scritto passo dopo passo si sgretola la struttura chi credevi di essere cede il posto a ciò che non sai di te allora qual è grazie Paolo per veramente intensissime queste parole qual è lo scopo di questo bruciare no? e non a caso il dopo Caronte è arrivato Lucifero e ripeto tenetemente anche questo discorso di Lucifero che nel con il nostro background DNA cristiano e cattolico spaventa anche ha ragione nel senso che ci sono delle motivazioni ciao Giorgia e stavo dicendo che perché? perché questo è un anno molto particolare questi sono anni di cambio vibrazionale io settimana scorsa ho fatto con Morena Ora Moro a a Marcerata una puntata Morena Ora vi consiglio di cercarla sul web tra le altre cose è anche una bravissima scrittrice pittrice è una speaker e abbiamo fatto una trasmissione anche sui nuovi tempi no? Radio Nuova Marcerata in blu e questi sono nuovi tempi questo tra l'altro è numerologicamente un anno uno ed è un anno nel quale sta iniziando un ciclo che ci trasformerà che ci ha già trasformato noi non ce ne rendiamo ancora conto ma il passato ce lo siamo lasciati alle spalle e sta bruciando le scorie di questo passato ora la luna quando è nuova rappresenta una come dire una sorta di lezione da imparare quando è piena è un po' un'interrogazione no? cioè che cosa e cosa abbiamo imparato finora una delle cose che si consiglia quando c'è la luna nuova girano molti posti in proposito è quello di a proposito di proposito di scrivere i propositi di questo mese lunare del mese lunare che andiamo ad affrontare e il giorno della luna piena è un giorno perfetto per il check di quello che abbiamo fatto di quello che stiamo facendo ora quest'anno quindi vi dicevo questo sole sta bruciando particolarmente non è un caso che i meteorologi li abbiano chiamato lucifero apro una parentesi io sono sempre stato colpito positivamente da quanta da quanto esoterismo inconscio o non inconscio conscio perché mi vede anche il dubbio che ci sia qualcuno che la sa lunga i meteorologi facciano o gli astronomi abbiano e mettano in atto nel momento in cui danno nomi alle perturbazioni danno nomi alle costellazioni danno nomi ai pianeti e ci hanno azzeccato con lucifero ma attenzione alla dualità della parola lucifero ovviamente ciao giorgia ciao concetta e lucifero sicuramente ovviamente il diavolo a parte che il nome che si affida anche è uno dei nomi anche di venere del pianeta venere ma è anche prima di tutto portatore di luce e poi il diavolo se se noi lo interpretiamo in maniera di come un archetipo non è il nemico ma è semmai un antagonista qualcuno che ci mette alla prova il diavolo potremmo dire anche che le nostre strutture le nostre paure allora cos'è che ci dice questa luna questa è una luna di libertà la parola chiave di questa luna visto che la luna piena è sempre il contrario del segno quindi di dov'è il segno siamo il leone quindi il suo antagonista il suo cugino si dice anche diciamo così in termini gergali in astronomia in astrologia del leone l'acquario e quindi questa luna è in acquario e quindi rappresenta l'acquario è il segno del rivoluzionario del ribelle anche della nuova era tra l'altro alla quale secondo qualcuno apparteniamo già o quantomeno stiamo per entrare o ci siamo appena entrati e quindi è libera da schemi vecchi libera da strutture che ci siamo dati e il lavoro che sta facendo è un lavoro di fino ecco perché lucifero cioè non bastava un diavolo qualsiasi non bastava un un emissario un intermediario sto usando riteto queste parole senza dargli connotati religiosi e non voglio entrare in questo argomento né offendere qualcuno la mia visione è metaforica ed è simbolica ma i simboli sono energia e ci voleva lucifero in persona ci voleva ci vuole tutta la luce per bruciare quello che quelle che sono le nostre storie ciao silvia ciao fernanda do portugal eh angi ariete centeleone ah però ah però come direbbe a roma estibip allora stavo dicendo che ci vuole tutta la luce tutto l'oro che noi abbiamo per bruciare queste scorie e non ha pietà questa forza l'energia di questo periodo è l'energia di un salto vibrazionale cioè è inutile fingere noi siamo già in un mondo nuovo siamo già in una situazione nuova noi siamo già nuovi stiamo facendo fatica ad accettarlo abbiamo ragioniamo ancora con la faccia voltata all'indietro ma siamo assolutamente in un mondo dove le certezze si sono sgretolate oh Marie Jo bonsoir e quindi stavo dicendo ci vuole tutta la forza trasmutativa dell'alchimista che trasmuta trasmuta o trasmuta il piombo in oro per compiere questo lavoro questa luna è una luna di libertà è una luna che scioglie dagli schemi ma il grosso problema ovviamente che noi tutti abbiamo il problema che potremmo di dire perché tutto è perfetto così com'è è chiaramente l'ego chiaramente le nostre resistenze grazie Laura le nostre resistenze più resistiamo più per esempio molti di voi mi dicono sto passando io stesso sto passando un periodo di una forza travolgente dove tra l'altro non posso fare a meno di affidarmi a quello che ho chiamato capitano universo che è il miglior ammiraglio in circolazione dove l'unica cosa che possiamo fare è affidarci ma è esattamente il compito che ci dà il leone perché il leone metaforicamente rappresenta il cuore rappresenta la regalità e quindi rappresenta la nostra centratura chi siamo veramente e Paola diceva appunto chi credevi di essere c'è del passo a chi non sai a ciò che non sai di te e ci troviamo a non sapere ci troviamo a non sapere chi siamo e ci troviamo a non sapere che cosa siamo perché ci siamo affezionati ai vecchi software alle vecchie al vecchio modo che avevamo di noi ci sta capitando a tanti di noi sta capitando parlo a livello personale perché paradossalmente a livello esteriore stanno succedendo meno cose del previsto cioè facendogli scongiuri nel senso che il leone è sempre stato un periodo tradizionalmente molto turbolento in realtà questo tempo ha tappato come dire la nostra anima al suo interno la costretta a vedere la prigione a parte quei fortunati che avevano il mare cioè per qualche giorno pure io c'è a Gaetana per potersi bagnare non bastavano non bastano le docce non bastano i refrigeratori il caldo che noi sentiamo che abbiamo sentito e che sentiamo è un caldo interiore perché stiamo lavorando cuocendo quello che siamo cuocendo e trasmutandolo i principi del cibo ce lo dicono quando noi cuociamo trasmutiamo l'alchimia è la metafora usiamo questo termine alchemico stiamo cuocendo e trasformando queste tossine in qualcos'altro e questo processo è un processo di cui dobbiamo prenderci la responsabilità grazie Dolores per avermi dato lo spunto senza volerlo guarda che sincronia scrivi sono stufa il leone è stato tartassato allora dobbiamo capire che quello che succede all'esterno non è né un nemico né qualcosa che succede all'esterno noi siamo tutti parte di un campo quantico siamo tutti parte di un sistema organico e vi ricordate quella fantastica frase inquietante che si fa risalire ai cabalisti nel medioevo che poi è diventato il famoso butterfly effect cioè se qualcuno se si batte c'è una farfalla che batte l'aria di qui dall'altra parte del mondo succede qualcosa che è un terremoto eccetera eccetera che è una metafora fortissima della connessione che tutto quanto ha su Gaia su questo posto così tartassato e così meraviglioso quindi è importante prendiamoci la responsabilità del fatto che questo leone questo momento e questa luna poi parleremo dell'eclissi velocemente poi vi passerò passerò a parlarvi di dell'input che vi volevo dare ci sta riportando a noi stessi e sta facendo un lavoro di pulizia ma chi è che lo sta facendo? ma sempre noi non è che è vero è vero Praghia tu che sei in una serra in termini di cottura sei già sei già bella e pronta per la tanor è bella pronta per il per la pentola per cuocere e dicevo siamo sempre noi che lo desideriamo e è ciò di cui necessitiamo quindi cominciamo a prenderci la responsabilità di questa cosa non esiste un esterno l'esterno è lo specchio di quello che siamo allora a proposito di questi 28 giorni decisivi dove è iniziato il nuovo anno secondo i Maya secondo il sincronario galattico che è molto in ausia in questo periodo e che è uno strumento nuovo nuovo e vecchio al tempo stesso meraviglioso e 28 giorni che sono iniziati anche grossomodo con la famosa levata eliaca di Sirio cioè Sirio diventa più visibile per noi e Sirio abbiamo detto è il sole dietro il sole e l'eclissi di stasera noi non avremo la possibilità di vederla purtroppo perché è un'esperienza fortissima ma finirà con qualcosa di ancora più potente il 21 agosto vicinissimo all'ingresso nella Vergine ci sarà un'eclissi totale di sole che noi non vedremo in questo emisfero ne sentiremo comunque gli effetti le eclissi sono come diceva la stessa eclissarsi significa anche nascondersi no? le eclissi sono un modo per entrare dentro le eclissi significa mi eclisso un attimo proprio letteralmente non solo questo mi nascondo e vado a cercare nell'ombra ciò che sono allora vi dicevo che quindi questi 28 giorni sono dei 28 giorni strategici fondamentali sono è uno una delle porte fondamentali di quest'anno che è un anno di una forza proverbiale allora io adesso vorrei regalarvi per chiudere un supporto una tematica un input che può aiutare un po' tutti un po' i segni i vari segni generalizzerò inevitabilmente però come reagiscono tutti i segni zodiacali di fronte almeno a livello di sole che è il proprio segno di fronte a questa a questo avvenimento domani da domani si aprono come quelli che vengono chiamati i tre giorni il portale del leone cioè il leone è al massimo fulgore allora qual è la lezione in qualche modo da imparare proviamo a dare un'occhiata ai vari segni allora per quanto riguarda la riete per esempio che è un segno di di solitudine o comunque di iniziativa personale vado no la riete immaginate avete presente anche la riete come strumento purtroppo di guerra di sfondamento delle porte dei castelli e degli ingressi dei castelli allora per la riete io propongo una cosa è una parola che ho trovato tempo fa se non sbaglio l'ha inventata proprio Stefania Ghian Marinelli che è una bravissima astrologa e non solo insegnante di Eurasoma eccetera e anche grande depositaria in Italia del sincronario galattico dei Maya sostituire la parola solitarietà cioè stare da soli non è solitudine con la parola solidarietà cioè dalla T alla D cioè cercare di la connessione con gli altri e la solidarietà l'empatia che per la riete che è un segno di fuoco è problematico o meglio è un desiderio molto forte ma è problematico quello che ci chiede in questo momento è proprio questo quello che chiede agli arieti quindi non solitario ma solidale ok per quanto riguarda il toro ecco usare la rabbia cavalcandola la sfida è quella di non dire prima la rabbia sappiamo che nel toro ma nel toro anche come animale la pacatezza e la furia la rabbia sono un comportamento ipo e un comportamento iper sono la stessa cosa e quindi osservare la rabbia e provare a non farsi cavalcare dalla rabbia ma cavalcarla questo è la il grande messaggio di questa di questa eclissi e scusate di questa luna piena con eclissi parziali di luna allora noi gemelli ahia io sono un gemelli per noi gemelli l'input è quello di trovare un senso a tutto ciò che si sta facendo c'è un filo conduttore un filo di ariana noi siamo tendenzialmente almeno come luogo comune oceanici o comunque andiamo di fiore in fiore o comunque abbiamo siamo qui e dappertutto ecco l'invito che ci fa invece è quello di trovare un filo trovare un filo conduttore trovare il filo del labirinto non rinnegare tutte queste cose che si fanno o tutti questi input o tutte queste energie ma trovarne una sorta di massimo comune denominatore di minimo comune multiplo per quanto riguarda il cancro per il cancro è arrivato il momento di lasciare andare la paura ancestrale la paura tavica la ferita primordiale quella che in astrologia per esempio è simboleggiata tanto da da Chirone la Barbò aveva scritto questo libro le cinque ferite ognuno di noi ha una ferita primordiale una ferita ancestrale animica forse possiamo definirla così ecco è arrivato il momento di andare al di là della paura di potersi permettere di lasciare di uscire dal carapace e farsi guarire allora per il leone io invece ho un un invito che potrà ho già capito che tra un po' i leoni si sconnettono sappiate che io ho una parte leone fortissima tutto il mio maschile ed è l'invito ad ascoltare l'altro e a me è salito questo mantra questo aforisma questo non saprei come chiamarlo ai cubo non importa un vero re sa ascoltare i suoi consiglieri e i suoi sudditi e la sua regina la sua corte cioè la capacità di ascoltare che significa non fare tutto da soli ok proviamo a dare ad affidarci anche agli altri per la vergine per la vergine smettere di sezionare cioè per una volta provare a osservare le cose nel loro insieme eh lo so Miriam il leone che ascolta eh beh ma qui ci viene chiesto qui viene chiesto viene chiesto di trasformarci viene chiesto di provare a scoprire chi siamo e ricito la frase di Paola giuro che non c'è nessun copyright e non mi ha non mi ha pagato chi credevi di essere cede il posto a ciò che non sai di te è una ricerca ok sì il leone che si mette ad ascoltare i gemelli che tirano il filo la vergine che smette di sezionare tutte queste cose che noi conosciamo dei segni zodiacali sono anche degli dei luoghi comuni cioè noi non siamo quella roba lì noi siamo ben più di quella roba lì non sappiamo neanche chi siamo in realtà quando ci arriviamo più o meno non sappiamo non lo scopriamo che ci facciamo una crassa risata presumibilmente dicono e ciao selene sì sì sei arrivato in ritardo vabbè tanto poi è l'opposto insomma quindi te lo puoi guardare più che altro arrivato in ritardo il tuo segno orca miseria però poi cercalo e beh dai lo ripeto solo per te guarda è un'eccezione ed è ciao Rita ciao Rita vinci ed è provare a essere solidali e non solitari ok io ho usato la parola solitarietà prima che è una parola una sorta di neologismo che mi sembra che abbia creato Stefania Marinelli o che abbia ripreso qualcuno e che è un gioco di parole sostituendo la T con la D cambia tutto allora tornando agli altri segni quindi per la Vergine smettere di sezionare per una volta non andare nel mondo subatomico ma provare a osservare l'ordito intero Maria Paola ciao benvenuta per la bilancia oh la bilancia intanto questa è una delle parole chiave della bilancia nonostante venga sottovalutato guarda caso prendersi la responsabilità di ciò che si fa essere responsabili sapete che responsabilità viene dal significa essere abili a rispondere cioè non a reagire o a rispondere del tipo ti rispondo male ma a elaborare una risposta la risposta reale ecco per la bilancia è arrivato il momento la sfida è quella di rispondere alla domanda fondamentale cioè io che faccio sì ok gli altri fanno quello gli altri sono stronzi gli altri sono belli brutti ma io senza giudizio senza che è una ovviamente delle come dire delle patologie della bilancia giudicare e giudicarsi tantissimo assumersi la responsabilità di ciò che si fa ciao Sonia benvenuta oh per lo scorpione per lo scorpione è una sfida vedete che sono delle sfide apparentemente improbe è quello è quello che ci sta spiazzando è quello che lucifero sta facendo è quello che l'alchimista sta facendo l'alchimista che è l'universo allora per lo scorpione la sfida è quella di volersi bene senza ferire qualcuno o ferirsi ciao Sonia anch'io e è un'impresa improba quella della scorpione scorpione anche come modalità l'animale scorpione sa che difficilmente colpisce ma sa che quando colpisce spesso muore con la coda per lo scorpione in genere volersi bene significa passare sopra qualcuno o se stessi non sto assolutamente attenzione cercate di interpretare queste parole ma è implicita nello scorpione la macerazione il dolore la sofferenza la sfida è quella di volersi bene e dire oh porca miseria ma guarda mi sto volendo bene e non mi sto facendo male e non sto facendo male a nessuno so it's possible yes definitely è assolutamente possibile per il sagittario allora il sagittario la richiesta di questo architetto di Captain Universe è quella di smettere di scappare da qualche parte di smettere di scappare fermarsi e osservare che stiamo scappando non ci metto anch'io faccio fitte di essere sagittario non ho niente di sagittario e e osservare che cosa facciamo perché ciò che ci fa star bene non ci raggiunga tipico del sagittario il dire no adesso scappo tipo cavallo imbizzarrito e nel frattempo c'è dietro qualcuno che dice aspetta sagittario no e tu sagittario dici no non voglio niente chissà cosa mi offrirà aspetta ti voglio dare un milione di euro no quello stronzo vorrà chiedermi dei soldi ecco stop stop yourself stopati e smetti di scappare questa è la richiesta per il capricorno è quello di prendersi cura del proprio corpo in maniera non workaholic non si può dire in un altro modo in italiano workaholism significa essere drogati di lavoro no vedere solo il lavoro per il capricorno è fondamentale ascoltare e guardare la propria salute ascoltare il proprio corpo e guardare la propria salute perché c'è un c'è stato e c'è un sovraccarico di stress e siccome il capricorno è uno stacanovista pazzesco ed è the best forse essere meno the best è quello che ci viene richiesto ok quindi attenzione a se stessi ciao Antonella l'acquario beh semplice libertà e attenzione perché la libertà di cui stiamo parlando è la libertà prima di tutto da se stessi e non è la libertà di qualcuno che mi liberi ma è la libertà di qualcuno che si prenda la responsabilità di essere liberi ciao Miriam grazie di che grazie a te che ci sei libertà da o libertà di ecco è proprio libertà da ok ed è molto molto importante perché io mi immagino quando si parla di libertà che noi dentro le nostre meravigliose prigioni fatte non solo di comfort zone non è la comfort zone attenzione non è soltanto stare starsele tranquillini perché c'è chi usa la comfort zone andando in giro per zompettando tra l'everest e altri luoghi anche quello se non si ferma mai è comfort zone perché quando si ferma scioppa come si dice dalle mie parti allora mi immagino sempre che l'immagine della libertà è quella di qualcuno che ti apre in una prigione guardate che purtroppo ha tante persone che sono state in carcere tanto tempo uso questa situazione concreta per farvi capire esci e dici e ora sei libero e lui dice e mo che faccio perché la prigione è dentro è rimasta dentro ciao Antonella grazie buona serata anche a te te ne vai è arrivata e quindi libertà dagli schemi che ci tengono prigionieri questa è la richiesta e infine i miei amati pesci i nostri amati pesci nei quali siamo stati immersi siamo ancora secondo qualcuno ancora immersi a duemila anni con tutte le sue religioni meravigliose anche messianiche e uno dei maestri più alti della storia dell'umanità che è Cristo ma non solo e allora per i pesci il messaggio è si può finalmente finalmente trasformare il piombo in oro si può finalmente smettere di soffrire cioè la richiesta che ci fa il nostro amato architetto sotto forma di presunto diavolo chiamato Lucifero è quella di smetterla di soffrire ce lo possiamo permettere ci possiamo permettere di trasformare finalmente questo piombo in oro non c'è più necessità di soffrire e c'è la necessità quindi di prendersi cura di uscire dalle situazioni disfunzionali che ci portano sofferenza ci vorrà del tempo ci vorrà un'ora ci vorrà un anno ci vorranno dieci anni speriamo per voi di meno ma darsi il proposito di uscire da lì non c'è più niente e nessuno per cui soffrire niente per cui soffrire e nessuno per cui soffrire di default anzi mai ok anche perché il ruolo all'ottava superiore dei pesci fondamentale è l'empatia il il grande regalo che i pesci fanno all'umanità è l'empatia ce ne sono tanti altri eh la creatività la fantasia l'immaginazione ok le favole sono qualcosa che viene in un certo senso dai pesci dall'attività onirica dei pesci ecco allora possiamo permetterci ciao Olivia ciao Fabri ho finalmente qualche uomo no senza togliere niente batteria quasi scarica vabbè ma stiamo finendo stiamo finendo e quindi per i pesci il messaggio è è ora di cominciare a vedere che non sei più piombo ma attenzione attenzione udite udite ci stiamo trasformando in oro oh my god e adesso eh è molta e tocca caro pesci o cara pescia pesciolina va bene allora onde evitare che diventi non so l'oroscopo di uno mattina non so neanche se c'è e ecco abbiamo affrontato questa cosa un po' anche in maniera non seriosa adesso in realtà credo che vi sia arrivato il messaggio serio che significa quello interiore due schedine le hai giocate ah con i numeri adesso voi te ne do te ne do altri Marco Marco Aurelio Montanucci ciao benvenuto ok quindi proviamo a fare un check di quello che è successo e aspettiamoci da qui al 21 altre grandi trasformazioni altre grandi sfide ma non è che il grande architetto che ne amava così è sadico è cattivo quello che sta accadendo è semplicemente che ci sta ributtando a noi stessi ci sta riportando siamo nudi ci sta spogliando e questa cosa alla nostra mente al sistema operativo ai software che facevano parte di questo sistema operativo fa una paura boia ma non c'è altra soluzione I'm so sorry ciao a tutti e Giovanni mi arrivi proprio sul finale ciao a tutti buone vacanze per chi è in vacanza buon lavoro per chi è là al lavoro e fate veramente opera di vuoto ok fatevi cuocere simbolicamente e non solo da quello che sta accadendo da questo leone ok e poi riparliamo magari il 21 agosto ciao a tutti grazie